RT nazionale in calo nell'ultima settimana è sceso dello 0,98% dall'1,9 di 7 giorni fa ma in 11 regioni resta pericolosamente ben al di sopra dell'1. Preoccupa ancora l'alto numero di decessi e la pressione sugli ospedali e soprattutto sulle terapie intensive con un tasso di occupazione dei letti, si legge nell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità che sale al 41% su base nazionale. Segnali positivi arrivano però dalla curva epidemica in decrescita anche nell'ultima settimana segno che il picco della terza ondata ormai è stato raggiunto e superato. L'incidenza è in lieve diminuzione però rimane molto elevata perché siamo intorno a 233% mila quindi non lontani da 250% mila con limite diciamo veramente elevato e ben al di sopra del 50% mila che costituirebbe il margine di sicurezza. Lenti miglioramenti che però non possono far calare l'attenzione che deve restare altissima per questo motivo per tutto il mese di aprile in Italia anche dopo la Pasqua blindata dal lockdown nazionale fino a lunedì 5 compreso non ci sarà alcuna zona gialla. Rosso e arancione saranno i colori predominanti con otto regioni in cui fino alla fine del mese resteranno in vigore le misure più restrittive parziale soddisfazione per Veneto, Marche e provincia autonoma di Trento che la settimana prossima passeranno dalla fascia rossa a quella arancione. Intanto calano i contagi, nelle ultime 24 ore sono stati 21.932. Stabile il tasso di positività, poco sopra il 6,5%, ancora alto il numero dei decessi 471.